Totale fiducia in Vergani, credo tantissimo nelle sue qualità, realizzerà 15 gol, così la presidente della Pescara Daniele Sebastiani. Ulteriori arrivi solo in caso di partenze, ora stiamo bene così, abbiamo le idee chiare. Intanto l'ADS Daniele Delicarri sempre vigile sul mercato, piace la mezzalla Alessandro Lombardi, ex imolese di proprietà della Regina, che ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, speranze minime, quasi nulla per il club amaranto che potrebbe essere escluso dal calcio professionistico, in questo caso Lombardi si svincolerebbe col Pescara pronto ad approfittarne, pur tuttavia Delicarri non molla la presa su San Nipoli del Latina, vero obiettivo del Delfino. Per il centrocampo si è parlato, a dire il vero, anche di Gavioli, cercato anche lo scorso anno, scuola Inter, cartellino della Regina, in prestito la scorsa stagione alla Propatria, assistito dall'ex Biancazzurro, Luca Ariatti, in realtà non ci sono conferme. Insomma, mercato di stand-by, per carità sarà solo una sensazione, ma per disputare un torneo di vertice, a nostro avviso, serviranno rinforzi adeguati. L'istantanea arrivata da Fiorenzuola dopo il match di Coppa con la Reggiana, squadra fragile e lacune di sempre, l'imperativo è innervare difesa e centrocampo. Domani ore 18 col Pineto, che quest'anno sarà una parigrado test di verifica, senza dubbio indicativo. Si gioca al comunale Ughetto di Febo di Silvi Marina, ingresso gratuito, diretta su Reteotto, partita amichevole in ricordo di Matteo Serra, scomparso prematuramente due anni fa, a seguito di una grave incidente stradale. Matteo aveva soltanto 18 anni ed era una giovane promessa del Pineto.